Pescara ricorderà lo scultore Andrea Cascella con un grande convegno in programma sabato prossimo 27 aprile con inizio alle ore 17 all'auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo organizzato dall'Associazione Culturale La Nave di Cascella di Silvano Console. Il grande scultore pescarese scomparso nel 1990 all'età di 71 anni sarà commemorato in occasione del 74esimo anniversario della liberazione d'Italia dal nazifascismo. Noi presentiamo questa iniziativa Andrea Cascella, un pescarese scultore e partigiano per ricordare la sua figura a 100 anni dalla sua nascita. Lui è nato nel 1919 a Pescara e lo ricordiamo in occasione della festa della liberazione come personaggio che ha partecipato da protagonista alla Resistenza. E questo lo ricordiamo con un primo filmato che ricorda le battaglie della sua brigata che operò soprattutto in Piemonte, in Val Sessia. E ricordiamo Andrea Cascella scultore con dei brani di un filmato che è stato girato nel 1993 su Andrea Cascella scultore e soprattutto a Matera, dove Andrea Cascella si affermò anche con tutta una serie di mostre, mostre rupestri all'interno dei sassi di Matera ed è diventato uno dei personaggi importanti di questa città che oggi celebra il suo essere capitale europeo della cultura. Ma ricordiamo il grande scultore Andrea Cascella che è stato tra i protagonisti della scultura moderna del Novecento, insieme con il fratello Pietro chiaramente. Però erano due individualità che hanno scelto strade diverse pur essendo tutti e due grandi scultori.